Bentornati ad Era Firenze, la rubrica sulla storia della città e del territorio. Cominciamo oggi una nuova serie di puntate. Parliamo di Leonardo e della sua epoca. Non parleremo solo di Leonardo ma anche di altri personaggi. Ovviamente non pretendiamo di essere esaustivi sull'argomento ma perché no di stillarvi alcune curiosità oppure spunti di riflessione. E con Laura Visentin, coautrice di Era Firenze, abbiamo pensato di iniziare proprio da Vinci. Ed è infatti con noi Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano. Grazie Roberta. Grazie mille. Grazie a voi. Roberta Barsanti è storica dell'arte e dal 2014 è direttrice del Museo Leonardiano, della Casa Natale di Anchiano e della Biblioteca Leonardiana. Questo incarico lo svolge in continuità con altri che ha svolto nel settore culturale per il Comune di Vinci sempre legati a Leonardo e al Museo Leonardiano. Ovviamente ha curato gli allestimenti anche in precedenza sia della Casa Natale sia del Museo e successivamente da quando era direttrice ha curato numerose mostre, ha esposizioni temporanee e ha cambiato anche alcuni allestimenti permanenti. In particolare voglio ricordare la mostra che ha inaugurato le celebrazioni leonardiane nel 2019, quando si sono festeggiati 500 anni della morte di Leonardo, alla presenza del presidente Mattarella. Era infatti esposto il paesaggio con fiume che è uno dei disegni più celebri della storia dell'arte. Detto questo è autrice di numerose pubblicazioni, non solo su Leonardo, per cui magari la inviteremo qualche volta a parlare di altri luoghi del nostro territorio, come ad esempio Signa, di cui so essere esperta. Ma partendo e ringraziandoti per essere qui e dedicarci il tuo tempo. Perché non ci parli del legame profondo che Vinci ha con Leonardo e di questo luogo che è il luogo della memoria storica per eccellenza di questo grande genio? Sì, il legame fra Vinci e Leonardo è un legame duraturo, profondo, che acquista molto corpo già nell'Ottocento ed è un legame che appunto continua tutt'oggi. Come sappiamo Leonardo nasce a Vinci il 15 aprile del 1452. Nasce in una famiglia detta da Vinci perché appunto molti membri avevano esercitato la professione notarile a Firenze e quindi erano identificati a Firenze con il nome di provenienza. Viene educato nella famiglia paterna, quindi trascorre a Vinci gli anni della gioventù e dell'infanzia. Nella famiglia paterna c'è anche un perché. Leonardo nasce come figlio illegittimo da un notaio, all'epoca un notaio ben determinato che è arrivato a fare carriera a Firenze e la farà, e Serpiero da Vinci e da una donna di cui conosciamo solo il nome e non sappiamo il patronimico, Caterina, che sappiamo poi andare sposa di un altro uomo conosciuto a Vinci come la Cattabriga. Leonardo cresce quindi nella famiglia del padre come figlio illegittimo ma allevato, pensiamo, in maniera anche molto amorevole, affettuosa da parte del nonno e anche da parte del più giovane dei fratelli del padre, lo zio Francesco. E lo sappiamo anche dal modo in cui il nonno stesso ricorda la nascita di Leonardo in un registro notarile appartenuto a suo padre, quindi al bisnonno di Leonardo, dove sull'ultima pagina di questo registro aveva annotato puntualmente la nascita di tutti i suoi figli. E in fondo che cosa leggiamo? Leggiamo addirittura il giorno, l'ora in cui nacque, come lui ci dice, il suo primo nipote, poi pensiamo un nipote maschio, quindi per l'epoca questo era significativo, figlio di suo figlio Serpiero, e ci dice il nome del prete che lo battezzò e addirittura dei numerosi testimoni che assistettero al suo battesimo. Quindi ecco, questo ricordo affettuoso della nascita di Leonardo. Questo si trova anche nella lapide della chiesa di Vinci che lo ricorda. Esattamente, Vinci all'interno del battistero, di questa piccola cappella che conserva il fonte battesimale, costruita in occasione delle grandi celebrazioni per la nascita di Leonardo del 1952, ha una lapide su cui proprio sono riportate esattamente le parole del testo con cui il nonno ci ha tramandato la nascita del suo primo nipote, quindi di Leonardo. E quel fonte battesimale, con ogni probabilità, è il fonte a cui Leonardo, bambino, riceve il battesimo alla presenza di numerosi personaggi che abitavano, che comunque erano vicino alla casa del nonno, che comunque erano in rapporto con la famiglia dei da Vinci. E Vinci ha sempre onorato il suo più illustre concittadino e continua a farlo attraverso anche quelle che sono le sue istituzioni culturali come il Museo Leonardiano, la Biblioteca Leonardiana e la Casa Natale di Leonardo Adanchiano. E quindi Vinci come specchio appunto di Leonardo e anche i restauri ottocenteschi sono stati appunto, e poi novecenteschi, hanno in qualche modo voluto configurare sempre più una Vinci a immagine appunto di Leonardo. E' molto utile, diciamo, questo suo chiarimento, anche alla luce sulla vita di Leonardo e sulla sua formazione, anche alla luce, diciamo, delle recenti versioni più o meno romanzate, televisive o non, sulla sua vita. Quindi c'è una Caterina nella vita di Leonardo, ma la Caterina, diciamo, documentata, non è né un'amica né un'amante, ma è la mamma, giusto? La Caterina di cui abbiamo documenti, certo, è la mamma. Noi lo sappiamo anche da una portata catastale del 1458, in quanto per avere detrazioni, e queste detrazioni valevano anche per i figli illegittimi, bisognava però dichiarare il nome della madre. Quindi da lì sappiamo che Leonardo è figlio di una Caterina che a quel tempo, come ci dice il registro, risultava moglie di questo a Cattabriga, e quindi viveva comunque non lontano dal borgo di Vinci, quindi in un luogo che Leonardo avrebbe potuto tranquillamente frequentare. E di nuovo però a Milano, nei manoscritti, quando Leonardo è a Milano, nei suoi manoscritti troviamo il nome di Caterina. Lui ci dice che venne Caterina da Firenze, e troviamo anche che dà dei soldi a Caterina, probabilmente per la spesa, e poi troviamo soprattutto le spese di sepoltura per Caterina. E quindi alcuni studiosi pensano che con ogni buona probabilità questa Caterina che viene da Firenze possa essere Caterina madre di Leonardo. E quindi il legame rimane anche con la sua terra natale, in qualche modo possiamo presupporre. Come il paesaggio Vinciano può avere influenzato l'opera di Leonardo? Abbiamo memoria, cioè lui una volta nato e poi è andato a Firenze, ritorna in questi luoghi oppure è più per noi un luogo della memoria per eccellenza di Leonardo? Sicuramente Leonardo ritorna nei luoghi dell'infanzia, nei luoghi dove la famiglia comunque aveva numerose proprietà, numerosi interessi. Basti pensare che quando Leonardo è a Firenze, però la famiglia sta prendendo a livello, ovvero sia un affitto molto potenziato, con molti più diritti, un mulino del comune. E noi sappiamo proprio dal contratto che Leonardo era presente a Vinci, alla firma del contratto e siamo nel 1478. Siamo dunque sempre negli anni della gioventù di Leonardo ed è importante perché appunto in questo contratto troviamo proprio il nome di Leonardo ed è citato come presente. Ma pensiamo anche ai primi anni del Cinquecento, anche se fisicamente non era Vinci, sicuramente il suo pensiero stava tornando al luogo natale, perché in anni vicini, ai primi del Cinquecento, fra la morte del padre e poi quella dello zio, Leonardo sta pensando a un grande progetto per Vinci, alla realizzazione di un bacino idrico che avrebbe dovuto convogliare l'acqua di più torrenti e con la forza motrice ottenuta dall'acqua avrebbe dovuto alimentare un opificio e la cosa curiosa è che questo progetto va ad interessare alcuni terreni appartenenti alla famiglia dei da Vinci. Molto interessante. E poi anche pensiamo al primo disegno di Leonardo, il primo disegno conosciuto, datato di Leonardo, il disegno del 1473, dove si ritrovano alcune suggestioni proprio dalle terre di Leonardo, quindi dai paesaggi noti a Leonardo o alle atmosfere di alcuni suoi dipinti che ricordano proprio le atmosfere di Vinci, della sua terra. Che tipo di formazione, di istruzione ha ricevuto Leonardo? Perché comunque il fatto di essere cresciuto in una famiglia di notai ha influito in qualche modo, però non ha ricevuto l'educazione canonica, che avrebbe potuto ricevere se fosse stato figlio legittimo. Proprio così. Il padre di Leonardo appunto era notaio, un notaio molto importante, conosciuto a Firenze, però Leonardo come figlio illegittimo, fra l'altro figlio illegittimo mai riconosciuto nel corso di tutta la sua vita, aveva dei diritti, diciamo così, attenuati. Per esempio non poteva ereditare la cittadinanza fiorentina, di cui invece erano insegniti i da Vinci, e non poteva appunto accedere a cariche pubbliche, e non poteva intraprendere la professione di notaio, quindi anche esercitare, così avere la professione paterna. Quindi non viene avviato a questa carriera, ma il padre trova per lui un'altra soluzione. E devo dire che dal nostro punto di vista è stata una fortuna, perché abbiamo avuto un Leonardo artista, ingegnere, e non un Leonardo notaio, probabilmente sarebbe stato un genio anche in questo campo, ma la storia è andata diversamente, come sappiamo. Il padre aveva appunto degli ottimi rapporti con una delle botteghe più importanti della Firenze dell'epoca, forse la bottega d'arte più importante di Firenze, che era la bottega di Andrea del Verrocchio. E Leonardo quindi viene messo a bottega di Andrea del Verrocchio perché impari la professione di pittore. Ecco, la bottega del Verrocchio era, diciamo, il top, era la bottega d'avanguardia che era Firenze, e la mostra, quella che c'è stata a Palazzo Strozzi qualche anno fa, ha reso molto bene questo aspetto. E quindi è anche, secondo me, interessante questa cosa che inizia come apprendistato, però Leonardo sta tanto dal Verrocchio, quasi come un rapporto di collaborazione a un certo punto tra i due artisti. Che cosa impara Leonardo dal Verrocchio? L'apprendistato presso il Verrocchio è stato fondamentale per lo sviluppo, sia artistico, ma anche di ingegnere di Leonardo, di esperto di meccanica, di tecnica, perché appunto nelle botteghe fiorentine dell'epoca non si esercitava solo l'arte della pittura, ma appunto anche la scultura, per esempio, l'architettura, ma soprattutto anche l'orificeria. ci si preoccupava anche di realizzare, per esempio, cartoni destinati poi alla tessitura di Arazzi o di costruire macchine, per esempio, per trasportare i grandi pali d'altare o le sculture stesse. Pensiamo quindi anche a tutta questa parte più... Ingegneristica, ecco. Si pensava, non lo so, a imparare anche tecniche di fusione, quindi una formazione veramente completa, che è un po' una formazione simile a quella di molti suoi contemporanei artisti e ingegneri. Grazie mille Roberta e riprendiamo con te a parlare di un altro aspetto di Leonardo che ci hai appena interrotto, quello di Leonardo Ingegnere. Chiudendo, voglio ricordare a tutti che Vinci è un luogo a cui non sono personalmente affezionata, ma è un borgo di una magia estrema, è il luogo davvero dove si riesce a percepire molto bene la presenza di Leonardo e ad apprenderlo. È un luogo sia per studiosi che per famiglie, perché i musei sono estremamente didattici e aperti a ogni tipo di utenza. Vi ricordo che in questo periodo per visitarlo durante il fine settimana è necessario effettuare la prenotazione. Grazie mille ancora e ci continuiamo molto presto a parlare di Leonardo e l'ingegneria. Grazie Roberta. Grazie Roberta. Grazie a tutti. Grazie a tutti